Ola amico! Per tutti i musicisti un po' asini come me o semplicemente curiosi, voglio consigliare un piccolo libricino che trovo molto interessante e utile. Si chiama Tempo di Teoria, scritto da Marco Confetti, che spiega in maniera pratica tutti quei concetti fondamentali che spesso sono un po' tabù o non esattamente chiari, dalla sincope al controtempo, dai gruppi irregolari, puli ritmi e così via. Ci sono vari argomenti, da quelli più semplici a quelli più avanzati. Voglio specificare che questo non è un libro di solfeggio con gli esercizi tradizionali, ma come detto un manuale che spiega i concetti ritmici della teoria, quindi non solo in realtà per noi batteristi ma per qualsiasi strumento. Io credo molto nell'importanza di conoscere la musica, conoscere il più possibile il linguaggio e riuscire a parlare la stessa lingua tra musicisti perché velocizza il lavoro alla grande. E poi è anche bello sapere, no? E in più con questo libricino, quando andrai a bere una birra con i tuoi amici pianisti, chitarristi o bassisti, non dovrai passare tutta la sera Kino sul telefono a guardare Instagram come faccio io di solito, ma potrai addirittura dire la tua. Tempi dispari? Forse volevi dire tempi a figure miste? Parliamone! Ti lascio il link nelle note se vuoi sapere di più. Ciao! 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 Ciao!